Eccoci qua con questo video di cosa voglio parlarvi di un altro top di gamma cinese era da un po' che non facevo un video simile parliamo oggi di Meizu MX-5 Pro Perché ho deciso di dedicarvi un video? Beh innanzitutto perché è marca Meizu che mi è sempre piaciuta nonostante il loro sistema Flyme non mi stia molto simpatico però è una delle più famose in Cina e molto venduta anche in Europa Seconda cosa perché è comunque un top di gamma davvero completo e si aspettava un telefono del genere Di cosa si tratta? Come per Meizu MX-4 fu fatto l'MX-4 Pro con l'Exynos serie 5000 questa volta l'MX-5 Pro è dotato di sempre un Exynos quindi questa è la principale differenza che sta tra il 5 e il 5 Pro del 7420 che è alla fine quello che c'è anche su S6 Edge ed S6 abbiamo prestazioni davvero al top non scalda, non consuma molto abbiamo 8 core 4.4 con 1.5 GHz e 2.1 GHz accompagnato ovviamente da una Mali quindi davvero potente come scheda video ovviamente come GPU e quindi è davvero un processore completo il primo a 14 nanometri per quanto riguarda i telefoni almeno nel mondo Android quindi è davvero un ottimo processore affiancato da cosa perché non è l'unica cosa che cambia in questo MX-5 Pro abbiamo innanzitutto un display più grande quindi da 5.5 passiamo a 5.7 la gente che si scandalizzava perché dice che 5.7 è grosso forse è grosso rispetto ai 5.3 dell'MX-4 ma sappiate che l'MX-5 se ce l'avete siete abituati a un 5.5 passare a un 5.7 non è niente di che anche se io ovviamente sconsiglio di passare da MX-5 a MX-5 Pro perché le differenze non sono abbastanza da giustificare la differenza di prezzo poi comunque deve ancora arrivare in Europa e tutto quello che ne consegue dicevo a questo schermo 5.7 pollici ancora Full HD ha sottolineato nella sua conferenza a mezzo che il display Full HD per lei è molto più sensato su questo tipo di dispositivo su 5.7 poi c'è il posto del 2K hanno fatto benissimo complimenti poi è sempre un iBody in alluminio sempre una fotocamera da 20 megapixel Sony apertura 2.2 con tutte le sue specifiche non molto sfruttata da Meizu nel senso che le foto sono quelle che sono più o meno siamo alla pari di un Honor 7 che hanno questo ottimo sensore ma sfruttarla pieno è difficile secondo me forse la sfrutta meglio Honor visto che di tutte le funzioni della fotocamera è sinceramente il più dotato abbiamo parlato di schermo processore RAM si divide in due parti quello 32GB ha 3GB di RAM mentre quello 64GB ne ha 4 questo perché oltre a differenziare la memoria il taglio di memoria interna anche se è espandibile in microSD fino a 128GB hanno voluto differenziarlo anche in questo modo non c'è il 16 ciò va benissimo la memoria è un nuovo tipo di memoria 4 volte più veloce di le vecchie MCC5 mi sembra che si chiamino quindi molto veloce abbiamo oltre a questo anche un chip audio soprattutto per l'audio in cuffia con un amplificatore davvero buono non me ne intendo l'audio da MX5 è alto però non è eccelso quindi magari in questo hanno voluto proprio raggiungere il massimo quindi questo telefono dovrebbe essere ideato per essere in massimo abbiamo 3050 mAh come sull'MX5 se non ero comunque si girano tutte attorno ai 3000 quelle degli ultimi top di gamma e non da una durata davvero ottima assicura 8 ore di schermo con la nuova Flyme 5 che ha dei consumi molto ridotti rispetto alla 4.5 che è l'ultimo uscito abbiamo ovviamente Android 5.1 e non escludo che verrà aggiornato ad Android M6.0 quindi queste sono le caratteristiche di questo top di gamma abbiamo anche ora che mi viene in mente la Type-C quindi USB di nuovo tipo questo è tutto quello che vi elenco è quello di diverso dall'M5 perché ad esempio lo spessore più o meno la scocca le caratteristiche anche il sensore di bonte digitali è stato un attimino ridisegnato ma comunque siamo sempre lì è quello che comunque c'è di diverso tra questi due telefoni quindi questo Pro ha veramente qualcosa di Pro soprattutto il processore rispetto all'X10 che lo rende migliore dell'M5 normale i prezzi i prezzi sono di circa 400 euro per la versione 32 giga e di 436 per la versione da 64 giga in Cina in Italia non si sa in Italia potrebbero arrivare con un taglio sopra i 400 per entrambi fino ad arrivare forse quasi ai 500 ovviamente questo si tratta di un telefono davvero top di gamma quindi top di gamma anche nel vero senso della parola oltre ad essere molto conveniente visto che è un telefono cinese quindi lo aspettiamo sicuramente bene questo è quello che volevo dirvi nella conferenza tanto per dire è stato anche ridisegnato il logo è stato ridisegnato il logo Meizu insomma è sempre la scritta Meizu ma impostata in maniera diversa bene detto questo ci salutiamo e alla prossima